Musica E bella a tutti ragazzi del JTF Clan, io sono JTF Chrysler e oggi sono qua con un nuovo video Prima di introdurvi l'argomento del giorno e il commentary, il commentary scusatemi, il gameplay di sottofondo che vedete appunto sul canale del clan Voglio fare una piccola premessa, siccome l'argomento che voglio trattare oggi è un po' scomodo per certe persone, ovvero i giocatori di Black Ops 2 Voglio semplicemente dirvi che qua sotto nei commenti voglio delle risposte mature con le vostre opinioni Se non siete d'accordo con me, se siete d'accordo con me, perché lo siete, perché non lo siete Perché io assolutamente non voglio insultare nessuno, non voglio essere volgale Ma voglio darvi la mia semplice opinione in quanto anch'io giocatore di Black Ops 2 E sinceramente mi sto veramente stancando della situazione degli ultimi tempi Black Ops 2 già era un po' l'etamaio, mettiamolo in questo modo Però veramente negli ultimi tempi è diventato ingiocabile E appunto vi darò le mie opinioni, spero che voi le accettiate anche se sono contrarie alle vostre Datemi la vostra opinione nei commenti, se non siete d'accordo magari ne discutiamo Ma sappiate che se commentate Chrysler non capisce un cazzo, guarda che così 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 Io farò cancellare il commento a chi di dovere Perché non è possibile che della gente venga a scrivere volgarmente sotto un video Quando io ho fatto questa premessa, ok? Detto questo passiamo subito all'argomento di oggi Al gameplay di oggi che ve lo introduco, scusatemi ragazzi Si tratta di un 59 Gangster che è realizzato totalmente in solo Su, penso, dominio recluta, non dominio veterano Dal nostro JTF Tempest HGTF Allu Non ho ancora capito perché si chiama HGTF Allu Nel senso che lui ha cambiato il nome su Youtube Non ho ancora capito il perché, glielo chiederò Comunque passate dal suo canale che è qua sotto in descrizione E niente, in pratica è realizzato sulla mappa Combine mi pare E il valore che ha questo gameplay penso che sia molto alto Ecco, perché è realizzato in primis in solo Poi su dominio recluta, quindi non dominio veterano Visto che voi dite sempre che dominio veterano oramai è stancato È troppo difficile, è troppo facile E quindi tanto di cappella per il gameplay Niente, passiamo all'argomento del giorno che ve l'ho già introdotto Però adesso andremo nello specifico Come ho detto prima, io sono un giocatore di Black Ops 2 E mi sono letteralmente stancato Della situazione che c'è Siccome io adesso, come ho detto nel precedente video Frequento una scuola serale E la mattina ho tutto il tempo, siccome non ho ancora trovato un lavoro Di mettermi lì e giocare alla Play Oppure svegliarmi tardi Fare un commentary appunto per il clan Per portarvelo a voi Quando io però mi metto a giocare Diventa il degrado ragazzi Cioè io adesso, se dovessi dire Vado a farmi una giocata alla Play Io non vado a farmi una giocata alla Play Vado a farmi una giocata allo sclero Allo sclero Ma non perché vengo ucciso a uno d'altro pro nuclear A uno dal quad nuclear No ragazzi, perché io non sono un tipo che va per gameplay Le mani ce le ho perché ce le ho per chi mi conosce Ok? Abbastanza Nel senso non sono il pro player della situazione Però le mani ce le ho Però non vado assolutamente per il gameplay La mia massima Gunstreak su Black Ops 2 è stata di 96 Che è un triple nuclear equivalent Molti non l'hanno fatto Quando io dico che non ho gameplay E dopo la fine dico che ho un triple nuclear Mi dico, eh beh, almeno tu ce l'hai Sì, ok, so questo triple nuclear Ma è l'unico solo, ok? Dopo ho fatto un po' di doppi Un po' di nuclear vari Un po' di nuclear di pompa Robbe così Però non sono sicuramente un player Che potrebbe andare in un clamp up stomping Sono un commentatore E da tale mi comporto Da persona matura Perché alla fine un commentatore Di solito è molto colto Cioè di solito è più colto rispetto a una persona Che va a insultarti il lobby In che senso? Se voi andate adesso in ogni lobby di Black Ops 2 Trovate l'italiano Che perennemente vi insulta Perennemente Ma io dico Perché dovete insultare? Io per esempio non ho il microfono Mi si è rotto Ho solo le cuffie Ok? Perché avevo queste cuffie Con attaccato il microfono Il microfono mi si è rotto Io ogni volta Che entro col mio account JTF Trattino basso Chrysler Se volete aggiungetemi Mi devo sempre trovare in lobby O su DevMatch a squadra O su postazione O su dominio Sempre qualcuno che mi insulta Ma perché dovete insultarmi? Cioè io cosa vi ho fatto fondamentalmente? Manco vi avesse insultato in passato Cioè io non ho mai insultato nessuno Punto uno Perché non mi sembra Proprio il caso di insultare per un gioco E punto due Perché dovete insultare me per esempio? Cioè non ha senso Non ha senso ragazzi Piuttosto facciamoci una partita insieme Se mi conoscete Al posto di dire JTF a bordo O di qua e di là Non ha senso Non ha senso Cioè fate le persone mature In più ragazzi È diventato pieno di hacker Black Ops 2 Cioè tu Entri in una lobby Tempo 3 secondi Ti frizzano la play Cioè non è possibile Cioè ci sono i tedeschi Che ancora pretendono Di fare il gameplay Dopo 3-4 anni Che ho uscito il gioco Di fare i quadri nuca Frizzando la play Prima però non ci riuscivano E dopo ti spieghi Come stanno uscendo Tanti gameplay Sul Black Ops 2 Ok? Dopo c'è gente Che li fa totalmente legit Come Prime Che lo conosco Come altri miei amici Però comunque La maggior parte della gente Oramai non sono più Totalmente legit Perché anche Se frizzi la play A uno abbastanza forte Che è dentro In lobby Non è già più legit Perché vuol dire Che la lobby Non è trovata da te Ma è creata da te Ecco È un piccolo sfogo Questo qua Che vi ho fatto Perché veramente Non ne posso più Perché Io sono sempre Cordiale con tutti E cerco di mantenere Un rapporto iscritto Youtuber Ottimo Ho già accettato 10 amicizie Richieste di amicizie Dallo scorso video Che avevo fatto Sulla open lobby E ci siamo già fatti Anche delle belle partite Insieme con voi Iscritti Quindi aggiungetemi Lascerò qua Il mio link Nei commenti E vediamo di risolvere Un po' questa cosa Italiani Per favore Siate un po' più maturi Che è inutile Insultarsi per un gioco E niente Comunque Il gameplay è giunto al termine Vi invito a lasciare un like A commentare sempre numerose Iscrivervi al mio canale Iscrivervi al canale JTF Tempest H JTF Allo E iscrivervi al canale JTF Clan Lasciate tanti like E bello a tutti O una giolla Che sembra un bazzucca Nella tuta Minchia Non ti piacciono I JTF Figa Ammazzati Figa sparati Quando arrivo Devi farmi passare